Hey! Non ho idea di come tu sia finito qui ma benvenuto! Comunque a piacere io sono Oscurovoce e su questo canale troverai diversi contenuti alcuni dei quali già arrivati al termine del loro progetto come The Witcher, Metro 2033 e Metro Last Light altri progetti ancora in corso come Skyrim, The Witcher 2 ma non solo! Ci saranno videogameplay di giochi a caso, qualche sporadico vlog, live streaming e talk show su Hangout qualora ci fosse un argomento stimolante. Pensi che sia finita qui? Assolutamente no! Ho ancora molto da imparare e numerosi progetti in cantiere, quindi a te la scelta! So many years...